Giuro che c'era una caverna qua Ah eccola Mi serviva Foxpark per trovarla Entriamo a vedere cosa sta succedendo là Niente bracconieri che mangiano dei gumos Entriamo nel dungeon Cosa succede nel dungeon? Solo un sacco di caricamento per ora Allora intanto vedo già un Daydream Che voglio catturare Un'altra legnata Gliela puoi tirare Daydream Poi lo catturo Ho solo 12 sfere Pensavo di averne di più Devo stare attento a come le uso e a quante ne uso Oh sono stato più veloce di lui Per una volta Stavo dicendo devo stare attento a come le uso e quante ne uso Ma Non ce la possiamo fare Dai mo Che che è? E dai rimani dentro Oh Modio che bello che sei E' a 9 pure Eh Daydream Daydream Vabbè ho capito che tu non lo combatti questo Solo 20% Potrei provare un altro colpo Io no Ma che problemi hai? Non ha attaccato per i primi 5 minuti Poi quando ha un HP appena esce dalla sfera bam Ma Daydream porca miseria Eh? Ti lascio in base la prossima volta eh? Era così figo non l'avevo mai visto sto pal Porca miseria Porca miseria Eh? Daydream Mannaggia Teo Va bene Qua cosa c'è invece? Foodler Killamari Ma quanto sei carino Questo lo voglio Non me lo shottare Spara quello là tu Ok Sarà meglio che la smetto di farmi slegnare di brutto Perché ci sto rischiando la pelle Eh scusa Niente Non ho più sfere pal Ah E che ho visto che Killamari che avevo preso faceva schifo Speriamo che sti bracconieri mi diano delle sfere Ma Ho visto che presumo che alla fine di tutta sta roba ci sia un boss Forse quell'unica sfera che ho Conviene tenerla Che dite? Qua c'è una cassa intanto Tre sfere pal Sono comunque un po' poche per catturare Killamari Ma li voglio lo stesso Speriamo che questo rimanga dentro Nice Corpo robusto Stacanovismo e controoscura Questo c'è anche un sacco di bonus E mo come torna a casa Rega Cioè non a casa Voglio tornare al bivio Raga mi sono perso Aiuto Cosa mi dice Ah era da di là che sono arrivato Scusatemi io non ho ancora provato Questa cosa Che prendo in braccio Foxpark Eh sembrano un bel po' di danni questi Interessante Tra l'altro è solo a livello 13 Foxpark Al momento Questo Oh ha lasciato cadere due sfere pal Molto bene Allora possiamo cercare il boss Sempre se ritrovo quel bivio Eccolo Eccolo È questo Sì ok Ok Ce la possiamo fare Non mi sembra ci sia ancora nessun boss Ci sono di nuovo dei Mao Ah vogliono proprio farmi consumare ste sfere Non capisco perché litigano tre di loro Allora Facciamo che se prendo quello al 5 Forse È più facile da prendere Sembra di sì Ma non così facile No Oh ma guarda che ci ha provato eh Mannaggia a te Oh se mi vieni a tirare una sfera Provi sempre ad anticiparmi In sto daydream Oh Allora Tutti sti cadavere di bracconiere Ci hanno lasciato qualche altra sfera Sì Guarda che le vedo Ok Direi che Direi che quello è il boss È un gumos gigante Quindi uguale agli altri Cioè È come È come i gumos Ma è gigante È alfa Tipo lo sciotto Se faccio così Ehi Ehi No No Eh vabbè Niente Mi è andato in cooldown 1.75 È veramente poco Ma vabbè Ci sta Se vado qua Non mi colpisce più Immagino Porca miseria E Devo Fermare il mio lead dream Prima che faccia un casino Però Comando non attaccare Vai Ok 11 per Ma dai Me l'ha schivata Ci vado dietro Eh Non sono riuscito A rimanerci dietro Se voi rimaneste qua E fate un po' da esca Ok Oh Ce l'abbiamo fatta Abbiamo preso Mega gumos qua E Una cuore Che non cessa di battere Ottenuto da un pal I mercanti offrono cifre notevoli Ma che Che cosa Cruenta Eh va bene Ho trovato anche anime di pal Che cosa triste Ehi Di forzieri viola Via Se non spreco una ball Ogni tre minuti Io Non sto bene Rubino Biancheria termica Ah Un accessorio Che aumenta di poco La resistenza al gelo Why not Bene Allora siamo usciti da qua Sarei un po' tentato di andare a provare il boss Però non so troppa roba in inventario Pessima idea Andiamo prima a casino un attimo E E E E guardate Guardate le nostre vixi Va che roba Mamma mia Wow Quante sfere pal Mi state dando Quante frecce Anche il denaro pure Cioè nel senso Non si lasciano sfuggire nulla Grazie Otto sfere pal Boh Dori in poi io Non devo più produrre sfere pal Ah scusate ma Io ho già cestina No Allora Ascia di metallo Qua Questo cos'è Manuale avanzato Un libro che riporta Scoperte Ma si usiamolo Mi ha dato un punto tecnologia Va bene Forse devo tenerlo Boh ragazzi Se devo tenerlo Ditemelo nei commenti Qua spreco una montagna di spazio Questo va spostato Non so come Se lo sapete Ditemi nei commenti Come spostare questo Perché ho paura di toglierlo Che mi smonta tutto Quello che ho buildato Ma lo devo mettere più Verso di qua Perché qua spreco Come un botto di spazio Come ecco qua Per salire di livello Ci vuole la struttura medica Medievale La devo prima sbloccare Ah posso fare anche La sella di Rushlor Ma non ha senso Perché posso già fare Quella di Eik Tirdir Come si pronunciano Sti nomi Cattola refrigerante Interessante Assegnandogli un pal De ghiaccio Si rallenta Il deterioramento Del cibo Sì ma io Non voglio Sprecare anche Un posto Per un pal De ghiaccio Questa è un'armatura Migliore di quella Che mi ritrovo Potrebbe non essere Una cattiva idea Ha visto quanto mi tolgono Banco da lavoro Per sfere Wow Lo voglio Campo di grano Vamo a che primo Ho comprato i semi Mulino Gabbia di osservazione Box di lusso Per i pal catturati Al suo interno Non può combattere Ah è tipo da far vedere Ah ah Lo facciamo Ma è enorme Ma è gigante Ma cos'è No no Non lo facciamo adesso Troppo Troppo grande Troppo poco spazio Non so se va per forza Dentro i confini Il banco di lavoro Per sfere Lo voglio fare Presumo mi faccia fare Le sfere più forti Voglio fare la sella qua Cosa mi serve L'ingotti di metallo E fibra L'ingotti di metallo Dobbiamo farmare Come Perché c'è una Sfera pal qua per terra Un'altra cosa Vorrei un'altra Renna Perché quella che ho È così utile Per il legno Che ne vorrei un'altra Qui posso catturare Qualche altro Foxpark Per vedere se Per caso Trovo Come ci sono arrivato Da per solo due frecce Le ho depositate per sbaglio Allora Mi si è tutto danneggiato Buonanotte Per caso Chilamari Aveva qualcosa Eccolo Guantoni Di Chilamari Per afferrare Dolcemente Chilamari Con questo oggetto Se in squadra Potrei usarlo Come aliante Let's go Facciamolo Facciamolo E lo devo fare da qua E lo posso già fare Nice Che pazzesco Quante sfere pal gratis Si fanno Con quei vixi In più anche le frecce Niente male Anche se di quelle Ne manca Ne avrei qualcuna In più volentieri Allora Dovremmo avere I chiodini Eccoli Perfetto E ora possiamo fare La struttura medica Medievale Che cosa fa Non lo so A cosa serve Non ne ho idea Presumo curi I pal Che rompono sempre Le scatole Che non vogliono lavorare E poi forse Mi fa fare Delle pozioni Per curarmi Finalmente Sono pronti I guantoni Di Chilamari No Vabbè Devo averlo in squadra Cioè io così Quando ho un crates fuori Mi potenzio I danni Di tipo Oscuro E mi potenzio Anche quelli Dei due Dei dream Non male Non male Non male Chilamare Eccolo Wow Ma volo Ma volo Guys Sono Non vado Verso Il basso Devastante Un po' lento Però Devastante Utilissimo Ce lo teniamo Chi l'ammari Attenzione Stiamo per sbloccare Finalmente Oh L'upgrade Per il box Dei palmoro Sono troppo curioso Cosa fa questo Medicina di qualità Efficaci contro Debolezza e depressione Ah vedi Non fanno recuperare Punti vita Ho capito Ah però Cinque corni Cinque lingotti Di metallo Contro Ulcera Grastica E frattura Non fanno recuperare Punti vita Malanni e storte Queste sono più economiche Decisamente più economiche Va bene Io qua sono ancora senza gumos Quindi il mio cibo sta finendo Devo andare A catturare altri Pall che fanno Fanno la semina Oltre Oltre la semina Facciano qualcos'altro E credo di sapere in che zona trovarli Tipo i leaf monk Leaf monk Non l'ho catturato Prima no Potenziamento base Edifica scatola Rifrigerante E banco da lavoro Per sfere Andiamo a nanna Che dopo andiamo a prendere Degli altri Palla Erba Questi dei dream Sono fortissimi Ma mi impediranno Di catturare qualunque cosa Io provi a catturare Probabilmente Mi manca Ah due di fibre Posso fare la sella Delle Se non camminassi sul fuoco Sarebbe meglio Ma va ho caldo Ah si Sto solo andando a fuoco Non c'è mica bisogno di dirmelo E prima di fare La sella La potremmo già mettere a fare Intanto Che magari ce la troviamo già fatta E poi ne devo catturare un altro Di questo Eik tirdir Eik tirdir Eik tirdir Lui Ne catturo degli altri Perché uno lo voglio A prendere Il legno Visto che è molto efficiente Wow Wow Ma è utilissima sta cosa È utilissima È fortissima Ora muoio Bellissimo come Si trova sempre attaccato agli alberi Allora Ora posso andare di là Tranquillamente Voilà Prendere questo Frutto della tecnica del fuoco Scintile di fuoco Frutto della tecnica dell'acqua Getto d'acqua E frutto della tecnica di terra Raffica di rocce Ct che non so cos'è Potenza 30 Ct 10 Cos'è 10 2 Cos'è il ct Cooldown Time Cooldown time E quindi con questo Posso insegnare Delle mosse Ai miei palli Interessante Eccoli Pall d'acqua Di erba Tansi Calisto Tansi Ok Tansi Ci siamo presi un paio di Tansi Tansi fa la semina Si Tansi fa la semina Può andare bene Raga ma quello cos'è Oh mio dio Ma tu sei la cosa più bella Che ci si Volevo catturarlo Oh mio dio Ma quanto Deportatemi lontani da qua Un Ektirdir E quello la cos'è E quello la cos'è Cillet Danzatore della prateria Beh direi che sono stato risposto Dai Siete degli animali Lo sto shottando Raga No Lo prendo Lo prendo al primo tentativo Cioè Il terzo Perché ho avanciato due sfere giù Porca miseria Punti tecnologia antica Ottenuti Uno Uno Che è Questo qua a destra Tecnologia antica Incubatrice per uova Borsa per il cibo Una piccola borsa contenente del cibo Mette a disposizione uno slot Per il nutrimento automatico Il cibo di uno slot Viene consumato Non appena hai fame Ah Comodo Non devo più mangiare però Pistola con rampino pure Questa è utilissima Anche se Capsula di potenza Posso già prendere questa Distilla L'essenza ricavata Da più pall Praticamente se ho dei pall In eccesso Posso usare per potenziare Quelli che ho già Molto utile Però mi sa che Io prendo l'incubatrice Che ho le uova in giro Tipo là C'è un uovo Che me ne faccio Fino a che non ho l'incubatrice Assolutamente niente Quindi Sprechiamo il punto Tecnologia antica Madonna È utilissimo sto glider È utilissimo sto glider Sì Se non mi suicido Sì è utilissimo Però c'è un Iktirdir Oh Stanno spaccando Il sedere dei braconieri Senti Tag Palla Oh Adesso c'era bisogno Di questo Per iniziare Ad attaccare Non ho capito Niente È un massacro Sono diventati Un po' troppo forti Le mie palle Oh Cosa c'è qua Oddio Dei braconieri E io Continuo A tirare Ma perché Devi ammazzare Una cattiva Così Perché ti sta sulle valle Non ho capito Ha ha Liberiamo il pall Voilà Cos'è Un foodler Beh Vabbè però Scusa eh Oh Ah sulle corna Viene respinto Tipo Oh Sono riuscito A prendere un altro Spirito artigiano Rega È stato Decapitato Dal mio Foxpunks È solo La testa È arrivata Che gioco Crudele Che gioco Assolutamente Crudele Non so Se posso Continuare Allora No a parte Gli scherzi E adesso Con tutta Questa potenza Di fuoco Potrei provare La torre Del sindacato Di Reign Però Se voglio andare In giro Catturare i pall Portarmi Giti di Dream Non è una buona idea Allora Prendiamo quel teleport Lì Proviamo a fare La torre Raga Proviamo A fare La torre Ci proviamo Mi sento Super potente Con tutti Sti pal Appresso Invasione Grazie Pal Mangiatori Di uomini Allo stato Selvatico Che cos'è Che sta arrivando Oddio Questo Questo lo voglio Anche il lupo Anche il lupo Non ce l'ho Vero Non riesco A catturarli No No Cos'è Li avete massacrati C'è il mio cervo Che è un po' Impazzito Ah no Sta facendo un riposino Lui lo fa così Riposino Ci credo Tira a testate Tutto il giorno Poi impazzisce E chissà se questi Servono da concino Per le bacche Niente A me piace camminare Sul fuoco Ah c'ho la sella Oddio La proviamo Anche questo Va sellato Mi sembra una figata Però oramai Abbiamo fatto la sella Delle Questo E questo è pure Spirito artigiano Velocità dell'attività Più 50% Quindi scusa Se io lo metto Lo metto al posto Di questo Questo cosa aveva Sempre a dieta Io mi prendo Quello sempre a dieta Voglio assolutamente Provare questa cosa Scusa Scusa Wow Così incornata Ma raga Non me l'aspettavo Dovevate dirmelo Colpo potente Lo proviamo Una volta Che siamo tornati su Che dite Ma Che dite Diamo un'altra possibilità Alla cattura del dinosso 4% Protezione danneggiata Male male Oddio L'ho catturato Ho preso Dinosum Ho preso Dinosum Raga abbiamo Scusa Raga abbiamo Svoltato Cioè L'abbiamo Svoltato Siamo diventati Fortissimi E già al 16 Lo prendo al posto Di E ora andiamo a battere Sto boss Raga Non ce n'è per nessuno Non è vero Adesso muoio malissimo Allora siamo pronti Per il duello Siamo carichissimi Abbiamo Delle combo Interessanti Ma Per oggi è tutto Per questo video è tutto Ci vediamo al prossimo E scopriremo Se riesco Con i pal Che mi ritrovo A livello 16 e 13 A uccidere Il boss Della torre Del sindacato di Reign Che è qua Non ne ho la minima idea Perché non so Che livello è Ho 10 minuti Per farlo Parteciperemo Alla battaglia contro il boss Ma all'inizio Del prossimo episodio Che se è già uscito Vedrai Proprio qua sopra Da pulsare è tutto Ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Bella Ciao 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 Ciao